Soroto è uno dei principali produttori europei di miscelatori ed azione forzata e convogliatori a nastro, progettati specificatamente per l'industria delle costruzioni. La tecnologia dei macchinari Soroto è studiata con attenzione fino all'ultimo dettaglio. Soroto significa qualità, durata ed efficienza. Conosciamo le esigenze dell'uomo imposte ai cantieri da più di 30 anni. Progettiamo macchinari per il lavoro duro di tutti i giorni, anche in condizioni climatiche impossibili. Ciò ha contribuito a fare di Soroto un nome di successo e riconosciuto a livello internazionale nell'edilizia. Soroto, a lavoro dal 1986.